Una favola di città, il tema delle buone feste cosentine 2017 sottolinea con forza l'attenzione riservata dall'amministrazione comunale ai bambini. Proprio a loro per tutto il periodo natalizio è stato dedicato lo spazio dell'ex caffè letterario, trasformato per l'occasione in un bosco incantato con al centro un grande albero fatto di resti rinvenuti nei boschi colpiti dagli incendi della scorsa estate. Un allestimento molto suggestivo curato da Gianluca Salomone di Officine Babilonia. Un'installazione video avvolgerà fisicamente i bambini in una fiaba facendoli interagire con l'ambientazione e poi tanti laboratori durante i quali ogni bambino che parteciperà diventerà ufficialmente aiutante di Babbo Natale con tanto da testato. Questa area kids versione natalizia è coordinata dalla città dei ragazzi, un'alleanza educativa con 15 associazioni che nel weekend finché le scuole saranno aperte e tutti i giorni durante le vacanze natalizie proporranno tante attività diverse. Il Natale dei bambini ma forse il Natale anche degli adulti che finalmente tornano bambini. è facile comprare dei giochi di gomma, comprare delle cose e creare un luogo dove far stare i bambini. Questo è un luogo dove si sente la creatività e l'arte e speriamo di dare anche un servizio alle tante famiglie sia che abbiano voglia di fare qualche spesa magari senza bambini a fianco sia per chi magari deve lavorare o ha il problema di dove lasciare i propri figli.